Una senior forse la possono trovare, 5 senior, anzi nella realtà 6, che possano affrontare il duro lavoro della squadra è molto difficile da trovare. Questo è il motivo per cui la Romania fa fatica ad avere il programma di squadra senior. Daniela, tu che hai vissuto tanto, hai subito fatto cenno prima, peccato che manca la squadra della Romania, mentre qui intanto andiamo a vedere... Abbiamo visto anche Emanuela Maccarani con David Ciaralli, ripresi che si stanno godendo lo spettacolo delle individualiste. David Ciaralli che ricordiamo è responsabile delle relazioni esterne della Federazione Internazionale Ginastica, mentre qui vediamo Carolina Rodriguez. Per chiudere proprio il discorso sulla Romania come squadra mancata. Sì, diciamo che da quando ero in squadra non ho mai gareggiato contro la Romania, non l'ho neanche forse mai vista. Siccome comunque è vicino ai paesi che sono i maggiori esponenti della ginnastica, viene proprio da domandarsi chissà come mai, forse non ha preso piede la tradizione della ginnastica. Intanto a proposito di ginnastica individuale, ricordiamo che la classifica è guidata dall'Ucraina Shinkarenko davanti a Doravas e terzo posto Cantaluppi. Carolina Rodriguez Terminato bene Carolina Rodriguez Si sta facendo una buona gara, come abbiamo detto non ha esercizi particolarmente eclatanti, però sta conducendo un buon andamento.